Buongiorno e benvenuto su italian.greensportegiardini. Se sei venuto nel nostro sito è perché probabilmente hai la necessità o l'esigenza di sapere qualcosa di più sull'erba sintetica o sulle pavimentazioni sportive in generale. Bene, operiamo da più di 25 anni nel settore dell'impiantistica sportiva, collaborando con le migliori aziende distribuite su tutto il territorio nazionale. Di cosa ci occupiamo? Di rifacimenti, manutenzioni, progettazione e costruzione ex novo. Una rete di aziende ben strutturate, ben preparate e organizzate per l'impiantistica sportiva con passione, amore e professionalità. Qualsiasi sia la tua esigenza, un sopralluogo, un preventivo, un confronto o una domanda di natura tecnica commerciale, italian.green con la sua rete tecnico commerciale e a tua disposizione. Clicca, mandaci una mail e saremo ben felici di contattarti e venirti anche a trovare e conoscerti per consigliarti il meglio. Buona giornata e arrivederci su italian.green. Grazie! Grazie!